Buonasera a tutti, parliamo del decadentismo in pochissimo tempo. Decadenti vengono chiamati con spregio i poeti maledetti per la vita disordinata e le innovazioni introdotte nella poesia. Il decadentismo è una corrente culturale che esprime grande inquietudine nei confronti di una società in trasformazione. La crisi del positivismo, le repressioni autoritarie come quella del generale Bava Beccaris che prese a cononnate la folla, la disoccupazione, l'emigrazione e l'imperialismo fanno cadere l'ottimismo positivista. L'ottimismo nei confronti di una società che volgeva al benessere, che doveva essere giusta e qui si vede tutto il furora e la follia che, diciamo, sarà precursore o precorrerà, diciamo, la Prima Guerra Mondiale. La teoria della relatività di Einstein e la scoperta dell'inconscio di Freud scuotono le certezze esistenziali precedenti. Freud sostiene che le azioni dell'uomo non sono libere ma condizionate da impulsi interiori formati durante la prima infanzia. Questi impulsi sfuggono alla volontà personale. La natura non è più conoscibile con la ragione ma è oscura e impenetrabile, assai misteriosa. L'unico tramite tra la realtà e l'uomo è la poesia e l'arte. L'urlo di Edouard Munch rappresenta benissimo questa angoscia. Danunzi e pascoli sono gli esponenti più significativi del decadentismo italiano. Esprimono una nuova poesia, vista come rivelazione dell'inconscio, del mistero della vita, dell'assoluto. Nasce un nuovo romanzo, un romanzo psicologico. Nel romanzo ritroso, Anne Francais au rebours, di Huisman, il protagonista vive da solo a casa propria e fa incastonare diamanti nel carapace della sua tartaruga. Nel romanzo non c'è azione, ma solo proiezione del proprio io. In Italia, Svevo e Pirandello riflettono nei loro romanzi la crisi e la solitudine dell'uomo moderno che ha perduto la fede nei valori della società tradizionale. Ricordiamo che il decadentismo è un movimento fino a 800, inizi a 900. Grazie, spero che questa breve sintesi ti abbia invogliato ad approfondire.